benvenuto e benvenuta in questo piccolo webinar su antinfiammatori naturali è un webinar gratuito divulgativo come mio solito fare mi piace farli li faccio per condivisione e io sono matteo sabattini come sapete mi occupo di naturopatia da tanti anni dal effettivamente come lavoro in proprio dal 2010 in realtà ho iniziato a studiare nel 2006 e qui mi occupo di riflessologia naturopatia quindi riflessologia tuina medicina cinese naturopatia e chiaramente un focus sulle ginnastiche orientali la mia ricerca è nell'ambito olistico sono anche il fondatore della scuola jiva moksha yoga che ha una scuola di yoga ma soprattutto di crescita interiore perché dire che una scuola di yoga uno può pensare una scuola di asana e basta ma in realtà è una scuola di crescita interiore con filosofia teoria dello yoga spiritualità tecniche meditazione eccetera eccetera anche gli asana ovviamente quindi una scuola a 360 gradi sono fondatori di questa scuola e sono anche il fondatore di master olistico focus in medicina naturale dove all'interno si possono già trovare corsi per esempio di astrologia dello yoga di medicina cinese tecniche di massaggio c'è il corso gratuito di naturopatia taoista che tutti possono prendere gratuitamente sta per arrivare il corso di riflessologia plantare maxi percorso quello molto grosso e quindi c'è tutta una serie di cose sono fondatore di queste due scuole mi occupo appunto di naturopatia e di medicina naturale fondamentalmente se così si può chiamare medicina naturale però comunque per quello che mi riguarda la natura è in sito nel nome la natura cura e visto che siamo su questo pianeta quindi un percorso non basato sulla consapevolezza non è un percorso quindi ci basiamo sulla consapevolezza del di quello che siamo di dove viviamo di che cosa di dove come possiamo attingere determinate cose andiamo avanti e andiamo subito al dunque capendo che i segni cardine dell'infiammazione sono di diverso tipo ok quindi quando si ha un'infiammazione come si sta tanto tutti siamo stati infiammati tutti abbiamo preso una botta tutti ci è venuta una febbre quindi colore della parte della parte infiammata che si colora quindi abbiamo arrossamento ci può essere tumefazione dolore alterazione funzionale della zona ci possono essere determinati segni che ci fanno capire appunto che lì si sta manifestando una infiammazione che capite già che è differente dal cronico quindi questa infiammazione è ovvio che può essere dovuta da tante cose quindi se è una botta è dovuta dalla botta se è una cosa interiore molto probabile che sia dovuta da un'alimentazione scorretta da uno stile di vita scorretto e ci sono diverse fasi dell'infiammazione fondamentalmente no quindi per esempio l'infiammazione acuta vasodilattazione quindi la botta sai il sangue inizia a circolare di più poi abbiamo un'infiammazione subacuta con infiltrazione di leucociti quindi cellule fagocitarie fondamentalmente nell'aria interessata poi abbiamo un'infiammazione cronica che è la più bastarda che c'è proprio una degenerazione tessutale ed è quella a cui probabilmente bisogna fare più attenzione che è il male e sarà il male dei nostri anni quindi è già da qualche anno così ma sarà sempre di più ok quindi abbiamo una risposta infiammatoria abbiamo detto quindi una risposta repentina quindi prendo una botta oppure mi viene un ascesso un'infiammazione un dente che ne so una roba così mi viene da dire un mal di testa dato da calore ovviamente si ha anche una risoluzione repentina del problema è vero perché abbiamo una risposta veloce repentina che consente una guarigione completa del ripristino fondamentalmente dei tessuti in condizioni fisiologiche normali invece se abbiamo un'infiammazione e la risposta del nostro corpo è fondamentalmente lenta e quindi la risposta del corpo è lenta attenzione perché qui si può sfondare una porta per via dell'alimentazione per via della poca attività fisica o della troppa attività fisica quindi del troppo stress anche quindi induce una cicatrizzazione di questa lesione tessutale che può essere anche data da un virus attenzione perché anche i virus lasciano cicatrici nel corpo causata chiaramente da questa infiammazione che sto parlando a 360 gradi e quindi questa risposta insufficiente induce poi un'infiammazione dell'aria interessata con una distruzione poi del tessuto proprio perché questa risposta è avvenuta troppo tardi fino a qui spero che sia tutto chiaro e l'infiammazione è un meccanismo di difesa che serve al corpo per sopravvivere e rigenerarsi e questo meccanismo coinvolge cellule, vasi, proteine tutta una serie di meccanismi nel corpo che sono molto importanti e i danni instaurati innescano queste risposte che sono delle infiammazioni chiamate anche flogosi flogosi poi ti tocca prendere chiaramente farmaci magari eccetera eccetera antinfiammatori, fans eccetera bene, anche un'alterata flora batterica va di conseguenza a spostare un po' l'assetto non un po', va a spostare l'assetto immunitario e quindi anche quello potrebbe essere un indice appunto di una risposta a un'infiammazione deficitaria perché? Perché c'è una flora batterica che non sta lavorando per il tuo bene ma al contrario bene, è un'infiammazione acuta può essere attivata da batteri, virus adesso di virus ne parlano tutti per cui è tutta una meraviglia questo mondo pieno di virus e di batteri, di funghi, no? siamo dentro a un ecosistema importante, bello e quindi sappiamo che alcune di queste risposte infiammatorie possono essere dovute a questi batteri, virus eccetera no? Di solito tutto questo stimolo è di breve durata ma se lo stimolo è lungo si instaura una risposta deficitaria allora l'infiammazione diventa cronica e l'infiammazione cronica è una delle principali cause dei mali moderni ok? Quindi in seguito a infiammazioni o a sovraccarichi di tossine nel corpo per questo è importante fare le depurazioni, non mi stancherò mai di dire è chiaro, poi uno si può ammalare comunque perché non possiamo smettere di considerare la vita come un susseguirsi di vite quindi anche di karma che si sussegue da chissà quali incarnazioni però se tu non fai le depurazioni e stai male sei un pollo, sei una polla non so se si può dire al femminile però è così insomma se uno ti dice di fare la depurazione tu la devi fare la depurazione non è che puoi pensare che vabbè me l'hai detto e la maggior parte delle persone pensano sti cazzi la farò in realtà no ci sono dei momenti prestabiliti nell'anno e ci sono dei momenti nella vita in cui il corpo manifesta delle determinate cose e se le depurazioni ti viene detto di farle tu le devi fare quindi in seguito a infezioni o a sovraccarichi di tossine se il corpo non riesce a spegnere queste infiammazioni il tutto si cronicizza e lo stress ossidativo diventa veramente fuori controllo radicali liberi, stress ossidativo eccetera eccetera i radicali liberi chiaramente creano danni ossidativi con conseguenza con una conseguente infiammazione e l'infiammazione rilascia radicali liberi con danni ossidativi e conseguenti infiammazione infiammazione ed è tutto un circolo vizioso che si sussegue quindi controllare l'infiammazione come? attraverso l'alimentazione, lo yoga e attraverso anche delle piante medicinali che poi andremo chiaramente a vedere bene adesso stanno entrando ancora qualcuno sul zoom ricordate sul zoom di tenere microfono e video spenti quindi la matrice extracellulare questo spazio incredibile che separa i vasi sanguini dagli organi questo spazio intracellulare questa MEC si chiama la matrice extracellulare questa MEC che nessuno valuta nessuno guarda adesso per fortuna i nuovi medici lo fanno alcuni i naturopati viene insegnato di farlo quindi quando troppe tossine vengono stoccate in questa MEC bene abbiamo un'acidificazione dei tessuti e quindi questa costante acidificazione poi può creare delle infiammazioni che possono essere di diverso grado quindi la matrice extracellulare è assolutamente da ripulire quindi mi dispiace dirlo ma uno dei motivi a monte dell'infiammazione molto spesso è l'eccesso proteico per intenderci quindi eccesso proteico da fonte animale o da latticino per esempio umidità da latticino quindi fuoco da eccesso proteico animale quindi dato senza un criterio se non c'è un criterio di assunzione di determinati alimenti è chiaro che si va a intossicare il corpo perché il corpo poi non ha quella capacità di digerire di smaltire e di fare ma questo poi sarebbe un altro discorso ancora un altro motivo per esempio dall'altra parte è l'eccesso di zuccheri quindi se noi guardiamo un carrello della spesa di una persona comune in linea di massima ci sono dolciumi alcol zucchero dolciumi e alcol perché poi l'alcol fermento fa zucchero e carne ed è il motivo per cui le persone poi soffrono di infiammazione di basso grado costanti quindi abbiamo diverse fasi abbiamo detto dell'infiammazione l'infiammazione quando c'è un'infiammazione abbiamo una vaso una vaso dilatazione sicuramente quindi poi abbiamo un aumento della permeabilità quindi le giunzioni delle cellule fondamentalmente si sfaldano e quello è un grosso è un problema però è fisiologico che avvenga poi abbiamo un aumentato flusso sanguigno è una formazione fondamentalmente di edema di essudato che poi potrebbe andare a concludersi con con la risoluzione ecco della problematica ma ma scacciare le infiammazioni del corpo è veramente difficile ragazzi perché soprattutto adesso in questo momento storico dove la maggior parte dei corpi sono estremamente intossicati o perché non sai gestire la mente e quindi l'intestino va dove gli para lui quindi non sai gestire la mente e questa somatizzazione diventa veramente imponente o perché si mangia male o perché si è stressato e giustamente mangi male perché ti rifai sul cibo o tutto quanto insieme oppure perché ti dimentichi di bere per esempio quindi non bevi acqua e quindi ti intossichi fai poca attività fisica insomma siamo in un mondo che se non corriamo i ripari diventa un po' complicato indi per cui è possibile come ti ho detto quindi solamente per fare una stima di un calcolo in Italia parlo solamente di infiammazioni intestinali quindi come potrebbe essere morbo di Crohn come potrebbe essere la colite eccetera eccetera solamente di intestino parliamo che in questo momento diagnosticati sono 250.000 persone affette da infiammazioni intestinali e negli ultimi solo di intestino e negli ultimi 15 anni la statistica è aumentata a meno di 20 volte chiaramente da una popolazione dai 10 ai 45-50 anni senza contare chiaramente tutti quelli che non hanno diagnosticato questa cosa ma che ne soffrono quindi che non hanno fatto percorso medico ma che ne soffrono che saranno altrettanti senza contare i bambini che ne soffrono ok i bambini che ne soffrono prevede il fatto che magari semplicemente vanno a scuola in un sistema scolastico che li imprigiona e li incatena mentre loro magari vorrebbero fare altro e la scuola sappiamo che è banco mascherina e ligi perché altri non ti puoi alzare non più di uno due non ti puoi abbracciare non ti puoi fare e questa è tutta somatizzazione chiaramente che va ma questo nessuno ci pensa è chiaro che viviamo in un mondo materialistico che questa roba non serve a niente fondamentalmente no se vai a chiedere a qualcuno queste sono dette puttanate e in realtà non lo sono ma ora parliamo di cose belle parliamo di risoluzioni e andiamo a capire che dalla natura finalmente noi possiamo trovare risposta nella natura possiamo trovare delle situazioni non dico risolutive perché non si può neanche dire risolutive ma andiamo a trovare delle cose che sono utili partiamo dal primo una delle piante oltretutto nostrane quindi non potevo non citarla perché io la uso quotidianamente su di me e ti garantisco che è un tocca sana parliamo dell'ulivo quindi l'ulivo ha caratteristiche salutistiche che dipendono in gran parte chiaramente dalla presenza di metaboliti secondari ok quindi tutti quanti conoscono l'ulivo l'olio l'olio di oliva sappiamo che nella dieta mediterranea fa benissimo contiene determinate cose ma pochi sanno che nelle non solo nelle olive soprattutto nelle foglie dell'ulivo andiamo a trovare questi metaboliti secondari tra cui oleuropeina questa molecola veramente incredibile è un polifenolo ok l'oleuropeina è un polifenolo che è presente nell'ulivo ed è dotato di attività indovina antinfiammatoria antiossidante ed immunomodulante quindi significa che modula la bilancia immunitaria ok ci sono degli studi scientifici in corso ok ci sono studi scientifici in corso d'opera all'università svariate università tra cui anche quella di Firenze e questa l'oleuropeina è veramente ragazzi un tocca sana ed è un peccato è un peccato nessuno la conosce nessuno sa tu dimmi commenta e dimmi se l'avevi sentita soprattutto magari nominare magari sì perché io ho visto qualche trasmissione anche in tv che ne parlano ogni tanto però insomma non la conoscono tutti allora questa l'oleuropeina è utile per le patologie cardiovascolari patologie neurologiche invecchiamento precoce dalla pelle e dell'organismo in generale danni indotto dai raggi ultravioletti patologie oncologiche vieno utilizzate patologie ossidative e infiammatorie un uso quotidiano di oliouropeina è consigliato a tutti non fa male a nessuno il problema è che non puoi mangiarti delle delle scamionate di olio ok quindi l'estrato di foglie di olivo è ricco di questi polifenoli ok con attività antiossidanti antimicrobiche antinfiammatorie e l'oleuropeina ha mostrato un'attività antibatterica addirittura contro alcuni dei dei aspetta alcuni dei facciamo così ecco alcuni dei ceppi alcuni dei ceppi gran positivi di alcuni batteri come possono essere lo stafilococco lo streptococco eccetera eccetera proprio va ad agire su questi e da una spiccata attività antinfiammatoria a diversi dosaggi che se avete bisogno di saperlo chiaramente aspetta che mi potete scrivere in qualsiasi momento io vi spiego io ti spiego le varie cose e ci sono stati proprio studi scientifici anche proprio a livello oncologico e questo è molto importante dirlo perché va a smorzare anche degli effetti collaterali da dei da delle terapie insomma è tanta roba ci sono molto affezionato ci sono molto affezionato a questo perché sento che su di me io ho una risposta veloce ed è ottimo anche per gli sportivi per esempio no perché chiaramente lavorando sul sistema cardiocircolatorio capisci anche tu che per lo sportivo sarebbe da prendere ma non solo anche per l'anziano ma non solo per chiunque ok per chiunque andiamo a vedere la seconda pianta antinfiammatoria per eccellenza non vi aspettate di trovarla sempre questa pianta qui soprattutto nel prossimo futuro verrà molto probabilmente te lo dico già verrà bandita o gli faranno la guerra a questa pianta qua ed è la purcuma già gli fanno la guerra perché dicono che faccia scoppiare delle epatiti può essere può essere può essere sicuramente se lo dicono è così però ecco vi dico non vi aspettate di trovarla facilmente nel prossimo futuro perché se la battezzano da togliere la tolgono la curcuma è da sempre considerata una delle regine delle piante antinfiammatorie ecco l'eretica ecco la goga per cui va a lavorare anche sulla cistifella soprattutto sulla cistifellea e per questo motivo va presa se la cistifellea è sana quando la cistifellea è sana ok perché aiuta proprio la spremitura della cistifella quindi questa spremitura della bile ok fondamentalmente e quindi questo permette un funzionamento migliore dell'intestino e anche dello stomaco e va ad agire sulla digestione in generale la curcuma è un ottimo digestivo e assolutamente per la digestione tanta roba la curcuma la curcumina è quel principio attivo che sembrerebbe veramente efficace nel contrastare il dolore e la ridotta funzionalità se tu hai provato una volta magari che avevi qualche dolore eccetera eccetera e assumi la curcumina in integratore capirai che qualche cosa succede nel corpo ok qualche cosa succede nel corpo quindi possiede potenzialmente elevate proprietà antinfiammatorie togliamo anche il potenzialmente possiede elevate attività antinfiammatorie è una spiccatissima azione antiossidante ed è una delle piante utilizzate da millenni dall'essere umano in India soprattutto la utilizzano da sempre è importante come pianta sì assolutamente è centrale quando si cerca di sfiammare il corpo la possono prendere tutti assolutamente no bisogna chiedere in realtà con infusione la puoi anche prendere quando vai a prendere invece la curcumina prendi l'estratto secco quindi prendi proprio la pianta polverizzata eccetera eccetera bisognerebbe un po' informarsi almeno sullo stato della cistifele e del fegato quella sarebbe la cosa importante da fare sono andato fuori all'estero con la curcuma il rosmarino ritorniamo rosmarino io sono salito adesso qui in collina sono dei cespugli bellissimi di rosmarino pianta magnifica dall'aroma strabiliante stratosferica il rosmarino mi piace proprio quando lo senti lo stroffini lo annusi ti dà quella carica e quel brio in più hai capito una pianta tonica se la usi come aromaterapia la usi per studiare la usi per fare tutte queste cose qui è tanta 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 però il rosmarino quindi è usato in erboristeria come digestivo eopeptico quindi significa che va a riequilibrare la pancia e l'olio essenziale che è ricco il neucaliptolo è sicuramente ha un'attività balsamica è antibatterico e lavora bene anche lui sulla cistifellea ed è un tonico se lo usi come aroma quindi come abbiamo detto quindi abbiamo attribuito al rosmarino molti studi hanno attribuito al rosmarino attività antiossidante importante quindi nella medicina popolare non viene nella medicina popolare non viene impiegato interamente solo per contrastare i problemi digestivi ma anche per trattare numerosi altri disturbi esempio problemi mestruali mal di testa emicrania rosmarino ad azione sul fegato quindi capiamo che mal di testa dato dal fegato ebbene sì puoi aver mal di testa dato dal fegato puoi aver mal di testa dato dall'intestino puoi aver mal di testa dato da tante cose io per esempio quando soffro di emicrania so che la mia emicrania che mi viene per fortuna raramente parliamo di dieci episodi all'anno se non la curo ma quando mi arriva io so che è dato dal fuoco di fegato e quindi io vado a curare il fuoco di fegato con la pianta giusta che mi stempera al fegato e mi va via e non mi torna neanche più probabilmente per un anno non mi torna più quindi vediamo che il rosmarino può essere usato davvero in tante in tante in tante vesti e esternamente per esempio esternamente essendo che è una pianta che riscalda esternamente anche internamente ma quello è anche un altro discorso energetico esternamente se la metti su un'artrosi fa molto bene quindi facendo degli impacchi eccetera eccetera e quindi dolori reumatici dolori muscolari sciatica e tutte queste cose qui sono tanta roba ok molto bene il grande vantaggio di un integratore come Olivox 40 è comunque dovuto dalla possibilità di assumere olio europeina in forma concentrata assieme però alla curcuma e al rosmarino a me piace questo integratore che è quello che uso io e quindi perché lo uso perché c'è già una forma sinergica sotto forma di infusione quindi sono dei bottiglioni io lo uso per mesi e mesi e mesi mi fa stare veramente bene e quindi essendo che tu li prendi già tutti e tre insieme non devi fare tre integratori differenti hai già un buon quantitativo alto di olio europeina che la senti tutta la curcuma senti bel saporone e il rosmarino che dà quel tocco veramente depurativo in più quindi questo prodotto che a me piace tanto se lo vuoi me lo puoi me lo puoi chiedere perché ti posso te lo posso procurare anche con uno sconto anche abbastanza alto se vuoi e è quello che uso io un altro prodotto che uso io perché avevo specificato prima che mi si rompano i cosiddetti avevo specificato che io in questo webinar davo i consigli sulle cose che uso io ok che sia chiaro che uso io su di me e che in conseguenza usa la mia famiglia un'altra pianta che pochi conoscono ma che ti garantisco ha delle proprietà incredibili al pari delle tre citate prima è la boswellia che è l'incenso ok l'incenso quando vai in chiesa no quell'incenso lì la boswellia è una resina bellissima pianta con un aroma spirituale che molti odiano perché la legano alla chiesa e odiano la chiesa ma non è che perché tu odi la chiesa devi odiare la boswellia è da stupidi fare questo questo ragionamento tu devi amare la boswellia perché è una pianta fenomenale così come una pianta fenomenale l'olivo ok lo ha curcuma il rosmarino sono tutte fenomenali perché sono la farmacia della natura farmacia della natura non sbaglia mai interagisce con il nostro corpo entra nei nostri sistemi ci fa del bene quindi questa pianta boswellia ha un'origine indiana africana è sud cinese quindi viene da quelle parti orientali quindi ha proprio quel sapore dell'oriente ma anche quel sapore forte dell'africa devo dire e quindi le caratteristiche di questa pianta eh qual è? è che è resinosa ok quindi in tradizione indiana è chiamata salai gukul che l'ha trovata in integratore aiurvedici tante volte l'ha trovata all'interno perché la usano la strausano perché? perché come la curcuma è deputata è una delle piante più importanti ok? quindi trova applicazione nei problemi di pelle nei problemi articolari e anche nei disturbi respiratori e di pancia quindi vediamo che sempre lavora a 360 gradi e anticamente l'incenso ovviamente era importante quanto l'oro proprio perché era un ponte tra il mondo materiale e il mondo spirituale infatti un incensato ogni tanto alla nostra casa con quell'incenso della chiesa che devi togliere dalla tua testa la chiesa mi fa schifo allora l'incenso lo odio perché mi fa venire in mente i ricordi di quando mi costringevano a fare il catechismo e non sentite di ogni di scuse prendi questa cosa ogni tanto fai delle belle purificazioni con l'incenso più che con tante altre piante si puoi usare la salvia puoi usare il palo santo ma l'incenso è l'incenso e rimane l'incenso ok proprio funzioni incredibili quindi ricerca farmacologica di base dell'incenso ha un'azione analgesica quindi va a togliere il dolore azione immunomodulante anche questa vediamo che ha dei principi attivi all'interno che modula il sistema immunitario e un'azione antinfiammatoria antinfiammatoria è importante perché la boswellia veramente funziona bene è ottima top e se le abbinate i due se abbinate i due col prodotto di prima la boswellia avete dei risultati ricerca clinica invece sono state applicate con l'asma morbo di cron colite ulcerosa osteoartriti capiamo che roba che fanno queste piante qua è ovvio che non avrai lo schiocco di dita e l'effetto subito dagli quei giorni per fare fare l'azione molto bene capiamo già che siamo a quattro piante e sono quattro piante molto interessanti potentissime andiamo a vedere adesso un'altra pianta diventa questa è in assoluto il number one per la medicina cinese per i canoni di medicina cinese la pianta numero uno non è una pianta è sbagliato definire pianta il fungo reishi perché è una via di mezzo tra regno animale e regno vegetale è un fungo meraviglioso se lo vedi ti ti cattura ok ti cattura con questa forma ventaglio sembra di un altro mondo come tutti i funghi del resto sembra di un altro mondo ma lì si potrebbe aprire un capitolo incredibile sui funghi medicinali e lo aprirò più avanti questo capitolo dei funghi medicinali perché da settembre è importante prenderli in realtà lo si può prendere in realtà anche adesso io ho una specialistica in micoterapia è la mia grande passione mi piacciono tanto i funghi guarda hanno un'azione incredibile sono ricchissimi di sostanze nutritive primarie secondarie contengono germanio organico sono ossigenatori ne fanno di ogni oggi ti do una spolverata sul king dei king perché nel canone erboristico antico cinese che non mi ricordo mai il nome però quel canone di medicina cinese erboristica viene messo proprio al primo posto come re dei re degli integratori perché possiede pochissimi effetti collaterali quasi nessuno ok quasi nessuno il reishi è una pianta barra animale lo mettiamo nel mezzo che regola per esempio la pressione del sangue che va a bilanciare il colesterolo che ti dona energia e vigora che contrasta le allergie che ossigena le cellule perché ha il germano organico l'ossigenatore uno dei pochi ce ne sono altri anche l'aglio lo contiene per esempio disintossica l'organismo depuratore del fegato problemi di pelle e adesso io ti spiego come ho conosciuto il reishi io il reishi l'ho conosciuto parecchi anni fa nel mio primo viaggio in oriente ero in un paese sperduto della della Thailandia e in quel momento ebbe un problema di dermatite fulminante molestissima e io praticamente mi ero appena 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 ero appena entrato in questa azienda malesiana con cui collaboravo e mi stavo appena approcciando al mondo dei funghi quindi io lavoravo per un'azienda malese sono in Thailandia faccio questa dermatite molestissima con un fastidio un bruciore alle mani imbarazzante trovo un'erboristeria di quelle antiche vado dentro gli chiedo il lingi perché diversi nomi reishi lingi ganoderma lucidum insomma gli ho chiesto il lingi con il marchio GMP che è un marchio great manufacturer product ho preso il migliore insomma ho speso un po' no? rispetto a qui pochissimo là ho speso preso una scorta di integratori mi sono anche portati a casa dieci scatole che ci ho durato ho durato veramente qualche mese a prenderli e là ho fatto tre giorni intensi di reishi dopo ventiquattro ore di reishi la dermatite mi era già passata ok quindi ero in un paesino veramente sperduto là da solo avevo ero giovanissimo zaino spalla giravo non lo so cosa avevo mangiato ero super stressato non lo so ma poi non lo so io non voglio parlare del mio viaggio ero andato in viaggio sono partito quella prima volta perché stavo male e volevo mettermi alla prova e sicuramente avevo un conflitto probabilmente in atto e il reishi me l'ha curato perché il reishi ha azione anche energetica sullo shen del cuore queste cose poi l'ho scoperte dopo perché ho studiato con i ganoterapeuti malesiani che oltretutto ci bacchettavano a me io quando faccio una domanda ho fatto una domanda ma quante capsule devo prendere di reishi ma bacchettato sto medico malesiano che mi fa voi in occidente non funzioneranno mai queste cose qua perché ne prendete troppo poche da noi se arrivano a prendere dai 5 grammi ai 25-30 grammi per le patologie grandi cioè significa che ti svuoti una confezione al giorno questa qua mi ha detto io non l'ho mai provato io mi prendo le mie 4-5 capsule al giorno 2 grammi al giorno sento che mi fa bene e insomma così comunque si può parlarne potrei parlarne una vita perché dei funghi medicinali è veramente la mia la mia grande passione e sono dei regolatori incredibili i migliori regolatori del sistema immunitario per cui capiamo quanto bene faccia il nostro fegato il nostro intestino sono degli ottimi prebiotici questi beta glucani ad alto peso molecolare arrivano intatti all'intestino e l'intestino ne va con la loro con la flora batterica bella popolosa come una città multietnica se ne vanno tutti quanti alla ricerca di questi beta glucani se li divorano e l'intestino diventa sano il reishi molto bene quindi abbiamo capito che è un cortisone simile è un cortisonico simile non te ne andare perché ti devo raccontare anche l'ultimo aneddoto è da sempre utilizzato come tonico cardiaco migliora metabolismo nel muscolo cardiaco e regola la pressione sanguigna tanta 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 roba e siamo già a 5 come promesso andiamo a 6 prometto che sui funghi torno a parlarne più avanti perché merita veramente di un corso a parte merita proprio di essere studiato insomma dovete provarli anche con questo se li volete posso dare uno sconto ok quindi mi potete contattare anzi contattami perché in questo modo prendi dei prodotti di iperqualità poi senti che cosa mi è successo perché la sesta pianta e chiudiamo la parte è il ribes che è il ribes nero quindi il ribes nigrum dimmi se non lo usi il ribes nigrum per forza lo usi scrivimi nei commenti perché per forza qualcuno te lo deve aver dato il ribes nero quindi il ribes non si limita poi comunque solo ai frutti ma ci sono anche le foglie i fiori e l'olio anche eventualmente che si ricava dai semi quindi è molto usato a scopo antiallergico da noi quindi quando c'è l'allergia erboristicamente parlando vai dall'erborista vai in farmacia e ti dicono ok c'è l'allergia prendi il ribes o prendi un preparato un composto con ribes e x altre piante andrebbe comunque perché sottovalutato come frutto andrebbe comunque mangiato insomma come tutti i frutti di bosco fate ogni tanto quando vai e trovi le more mangiati le more trovi il ribes ti mangi il ribes trovi il mirtilli ti devi mangiare un po' di mirtilli insomma vanno mangiati allora tutto sulla terra ha un significato e ogni erba guarisce una malattia e ogni persona ha una missione ok stemperiamo un attimo questa situazione delle piante ci prendiamo un secondo di pausa ci rilassiamo un attimo perché il ribes è una pianta importante sì il reis è una pianta importante sì e noi dobbiamo capire che tutti hanno un significato è vero tutti hanno un significato allora ti devo raccontare il ribes ti devo raccontare il ribes cosa è successo due sempre lo stesso viaggio ero in conflitto peso 2011 conflitto peso finisco la prima triennale due settimane prima di partire attacco gli appendiciti acuta ospedale di Imola entro piegato appendiciti acuta ecografia esami del sangue sballatissimi stavo malissimo ero da intervento dovevo essere tenuto dentro se accettavo l'intervento mi saltava il mio viaggio che era il mio viaggio intercontinentale il primo avevo 22 anni zaino in spalla mi sarebbe saltato decido di non farmi operare mia madre che capite no la situazione pazza che era in quel momento lì non mi faccio operare esco faccio una cura antibiotica oltretutto non prendete esempio da me mai faccio una cura antibiotica oltretutto fatta male conoscevo determinate piante tra cui il ribes ho preso il ribes l'intestino si è sistemato apparentemente parto vado in Thailandia faccio tutto un pezzo di Thailandia poi prendo un aereo vado a Chiang Mai al nord della Thailandia e prendo i monsoni da solo immaginatemi a me che sono là in giro da solo sperduto nelle risaie e che giro con lo zaino con un battello d'acqua che non ti dico l'acqua ce l'avevo fino alle caviglie ok sandali acqua fino alle caviglie sotto i monsoni arrivo all'albergo albergo alla guest house perché c'erano i monsoni ovviamente faccio il check in però dovevo mangiare esco fuori vado a mangiare torno gli avevo chiesto sei aperto vero tutta la no sì 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 torno guest house chiusa io sotto un battello d'acqua scavalco un cancello enorme per fortuna avevo lasciato la porta aperta entro vado a letto dopo due ore mi sveglio con degli attacchi lancinanti alla pancia avevo preso un botto di freddo un botto di umidità eccetera eccetera avevo degli attacchi lancinanti alla pancia e erano gli stessi attacchi lancinanti che avevo qui in Italia prima di partire mi si era riacutizzata l'appendice senti che cosa è successo avevo 50 ml di ribes nero 50 ml di ribes nero non so quante gocce quante centinaia o migliaia di gocce ci sono all'interno ma quel ribes nero visto che fuori era tutto chiuso era notte io avevo la sebra 39 e mezzo minimo perché avevo i brividi battevi i denti stavo malissimo una situazione proprio disagiata inizio a fare avevo anche i semi di pompelmo mi ricordo qualche capsula un blister mica tanto non pensare tanti inizio a fare una pipetta ogni 10 minuti una pipetta una pipetta una pipetta e acqua una pipetta e acqua una pipetta e acqua ho finito il prodotto 50 ml scannati avevo le placche mi erano venute le placche avevo l'appendicite avevo 22 anni quindi secondo me ero in una risoluzione di conflitti pesissimi una boccettina da 50 ml quindi un sovradosaggio quindi è dose dipendente anche no? quindi se te ne prendi 5 gocce non ti fa l'effetto di 2000 gocce fatto questo io 24 ore dopo non avevo placche non avevo febbre e non avevo più l'attacco alla pancia mi era passato non ho preso antibiotici perché non li avevo non sono andato in ospedale ho semplicemente fatto un digiuno dopo di questa cosa qua bevendo tanto un digiuno e sono tornato a posto e ho concluso la vacanza il viaggio io voglio dire questo intanto non prendete spunto da me perché io su di me ho sperimentato però per dire funzionano queste cose io quando dico che queste cose funzionano funzionano non solo perché lo vedo sui miei clienti ma perché le ho sperimentate in primis su di me quando i miei professori mi hanno detto ribes funziona così reishi funziona così io ho preso il ribes ho preso i reishi e le ho sperimentate queste sono le 6 piante antinfiammatorie che uso io olivo curcuma rosmarino boswellia reishi ribes ce ne sarebbero delle altre ma queste sono le 6 che uso io ora veniamo al dunque perché tu sai che puoi entrare quando segui questi webinar puoi entrare nei miei percorsi a dei prezzi bassissimi e anche gratuitamente a volte perché adesso c'è il corso di naturopatia taoista che se non l'hai fatto è un mini corso bellissimo secondo me in cui parliamo di medicina cinese e se vuoi entrare basta entrare su masterodistico punto ulama punto io ed attivare l'account e ti fai il tuo bellissimo corso di naturopatia taoista e soprattutto se uno vuole fare il percorso iniziatico fondamentalmente perché a me piace sempre fare il ponte no tra naturopatia yoga perché è tutto interconnesso quindi le piante vanno sapute guardare vanno sapute ascoltare bisogna sentirle eccetera eccetera diciamo che c'è il percorso al 50% di 50% in meno c'è il percorso jiva moksha yoga che ha un costo di 407 euro è un maxi percorso che costa 407 euro ad oggi è con il codice con il codice sconto moksha 50 che mi scrivi e te lo mando puoi entrare nel nostro percorso al 50% di sconto ne vale la pena perché in quel percorso lì si abbraccia anche qualche cosina di naturopatia e non solo di yoga ma andiamo proprio a parlare di tante cose interessanti e utili soprattutto per l'evoluzione per la riconnessione appunto che ne abbiamo bisogno e anche per sviluppare fiducia nel nostro corpo perché c'è da dire che non abbiamo più fiducia nel nostro sistema immunitario ce l'hanno tolta non è colpa tua ce l'hanno tolta c'è da dire questo non abbiamo più fiducia nell'affrontare le malattie no? pensiamo di non essere in grado e quindi dobbiamo prendere cose fare fare azioni anche a volte imposte a volte anche ingiuste perché ci manca proprio la fiducia quindi possiamo riprendere in mano la salute possiamo riprendere in mano le cose ma non puoi riprendere in mano la salute non puoi riprendere in mano una vita diciamo come si deve se non conosci te stesso se non inizia a lavorare bene con la tua testa eccetera eccetera quindi se entri ora nella scuola di yoga crescita personale puoi approfittare di questo prezzo perché il costo di 407 euro 350 gigabyte di materiale video e una grande mole di esperienza tratta dai miei viaggi in India quindi questa c'è la promo estiva per il mese di agosto quindi jivamoksha yoga.it è una scuola di yoga dove sviluppi competenze come se facessi un teacher training quindi se tu vai a fare un teacher training di 200 ore trovi fondamentalmente le informazioni che io ho condensato qui all'interno assieme chiaramente ad Arianna per cui è importante assolutamente fare questo percorso io sprono tutti a fare questo percorso perché è veramente bello io mi sono divertito a crearlo il codice sconto è moksha 50 e moksha significa liberazione 50 perché è lo sconto che c'è ripeto dai 407 sono la metà puoi entrare adesso e soprattutto ora e io sono Matteo Sabattini ti ringrazio per aver assistito a questo webinar e spero che ti sia stato utile soprattutto è un webinar per condividere anche delle esperienze io sulle piante ho tanta esperienza posso dire perché ho sperimentato tanto 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 e soprattutto anche tanto all'estero per cui ho proprio apprezzato la medicina naturale al 100% quando sono andato nelle cliniche ayurvediche quando sono andato nelle cliniche cinesi quando sono andato dall'erborista cinese quando sono andato dall'erborista tailandese quando sono andato dall'erborista cambogiano quando in Sri Lanka abbiamo conosciuto un personaggio che ci ha portato nel bosco selezionando le piante per farci fare i soffumigi ad Arianna che aveva la bronchite quindi insomma io un po' le piante le ho masticate e soprattutto i funghi che sono veramente tanta tanta roba allora mi aveva chiesto prima la boswellia usi estratto secco assolutamente sì estratto secco va benissimo assolutamente sì e c'è il bimbo che piange molto bene ragazzi se ci sono delle domande rimango invece per zoom adesso vado a togliere il la condivisione dello schermo quindi interrompiamo la condivisione e interrompo la registrazione ringraziandoti di aver partecipato a questo piccolo webinar per cui interrompo la condivisione e soprattutto ci vediamo quindi al prossimo webinar spero che ti sia piaciuto